No a questo bacio vellenoso. Così Lucia Fontana, sindaco di Castel San Giovanni, ha respinto al mittente la proposta avanzata da un gruppo di sindaci di centro-sinistra che la indicava come presidente della conferenza sociale sanitaria dopo l'uscita di scena di Giovanni Compiani. Quindi nulla di fatto nella conferenza di questa mattina. L'indicazione di Fontana, già vicepresidente nella precedente gestione, ha dichiarato Francesco Rolleri, presidente della provincia, arriva nel segno della continuità di un percorso già avviato su un tema tanto rilevante come quello socio-sanitario. L'unico obiettivo deve essere la tutela dei servizi e delle strutture sanitarie nell'interesse dei cittadini e al di fuori di qualsiasi inutile e dannosa divisione di carattere partitico, ha concluso Rolleri. Un nuovo incontro è stato fissato per il prossimo giovedì. Dibattito acceso quello che si è sviluppato nella sede della provincia che ha ospitato l'Assemblea. Fontana ha espresso la sua sorpresa alla proposta visto che, ha messo in chiaro, nessuno me l'ha comunicato. Voglio tenermi le mani libere, ha aggiunto, anche perché sul mio territorio sono accese questioni di grande rilievo, tra cui anche il futuro dell'ospedale. Critiche da parte di diversi sindaci che hanno considerato quanto meno strano arrivare in aula con una proposta senza alcuna consultazione preventiva. Nonostante nella discussione abbiano prevalso unicamente valutazioni partitiche, sullo sfondo c'è la preoccupazione dei problemi sanitari che attendono, in particolare la riorganizzazione ospedaliera. In sostanza, quali servizi avranno Castel San Giovanni, Fiorenzuola e Villanova? In conclusione, prima del rinvio, il sindaco di Coni, Luigi Bertuzzi, ha proposto la sua candidatura, forte di oltre 40 anni di esperienza amministrativa, ha detto. Candidatura che ha trovato adesione da parte di Lucia Fontana. Grazie a tutti! Grazie a tutti